Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento con la rubrica Il Consiglio regionale della Toscana. Siamo qua a Firenze, a Palazzo del Pegaso, per seguire la seduta del Consiglio odierna, ma noi andiamo a vedere subito quali sono i temi all'ordine del giorno nel nostro sommario. Musica Presentata in una conferenza stampa nella Sala del Consiglio regionale, l'iniziativa in tema sanitario Vivere Meglio, dedicata ai cittadini colpiti dall'alluvione. La campagna, giunta alla sua seconda edizione, offre alle vittime delle ultime alluvioni che si sono avute in Toscana, Emilia Romagna e Marche, 1600 interventi gratuiti completi di consulenza psicologica o di psicoterapia. Il progetto, interamente finanziato da Empap, l'ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, è realizzato in collaborazione con alcune università italiane ed è aperto a tutti i cittadini che hanno vissuto un evento traumatico come quello delle ultime alluvioni. Delle 1600 consulenze gratuite messe a disposizione, 600 riguarderanno le province toscane di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, recentemente colpite dall'alluvione. Per quanto riguarda la Toscana, noi ci aspettiamo che il progetto coinvolga principalmente i giovani della fascia d'età 20-24 anni e 25-29 anni, che già dalla precedente edizione del progetto sono state le persone che si sono rivolte maggiormente ai nostri servizi di sostegno psicologico per la prevenzione dei problemi di ansia e di depressione. Con l'evento dell'alluvionale che c'è stato a novembre, questa fascia d'età viene particolarmente coinvolta rispetto a tutte quelle che sono la messa in crisi della progettualità e delle proprie relazioni familiari e sociali. La fascia 20-24 anni, ad esempio, si è trovata già a veder messa in crisi tutta una serie di eventi della propria storia di vita che sono caratterizzanti. Durante la pandemia hanno perso il diploma, hanno perso i primi anni in università, qualcuno la laurea perché l'hanno fatto tutti questi eventi online. L'evento alluvionale va ulteriormente a mettere in crisi la fiducia nel futuro e la sicurezza rispetto ai progetti futuri. Per quanto riguarda la fascia 25-29 anni, a maggior ragione, sono ragazzi che si stavano trovando a immaginare i propri progetti di vita adulta e che magari si stanno adesso trovando a dover o rientrare nelle proprie case con i propri genitori perché magari la loro casa è stata danneggiata dall'alluvione o magari si trovano nella situazione contraria, cioè si sono trovati a dover accogliere i propri genitori che magari hanno avuto le case danneggiate o addirittura i propri nonni. Tutto questo mettendo in crisi le relazioni sociali per come le stavano progettando. In questo modo, con il sostegno a cui possono accedere attraverso il progetto Vivere Meglio, possiamo andare a prevenire la cronicizzazione di fenomeni di ansia, depressione, di insicurezza in modo tale che possano riprendere a progettare la propria vita con maggiore serenità. L'intervento è mediato da un portale che si chiama viveremeglio.empa.it per raggiungerlo. Il portale offre alcuni servizi gratuiti per tutti i cittadini. Fondamentalmente un servizio di screening psicologico che restituisce poi un feedback sullo stato di benessere psicologico e l'utilità di rivolgersi a uno psicologo o uno psicoterapeuta per essere aiutati. E fornisce anche servizi di autoaiuto, una serie di manuali che aiutano le persone a comprendere il disturbo che stanno attraversando e semmai anche a utilizzare una serie di esercizi per migliorare la loro qualità di vita. Per le persone invece che abitano nelle province alluvionate, offriamo in questo periodo la consulenza diretta degli nostri psicologi e psicoterapeuti per interventi gratuiti per il trattamento di ansia e depressione. Siamo quindi alla seconda edizione del progetto Vivere Meglio. Nella prima edizione è stato esteso il trattamento psicologico sul territorio nazionale con una partecipazione importante soprattutto da parte delle donne e delle fasce più giovani, quindi i giovani adulti in particolare. Ora nella seconda edizione, che è limitata alle zone che hanno subito eventi alluvionali nel novembre scorso, ci aspettiamo che di nuovo una popolazione femminile, giovanile, che sono tra l'altro anche state molto esposte a questo evento traumatico che è stato rappresentato dall'alluvione, possa avvalersi di questa risorsa. Un evento traumatico come l'alluvione, come in genere le catastrofi naturali, sono eventi che possono ovviamente rappresentare i veri e propri fattori di rischio per la salute mentale delle persone e ovviamente questo non solo per l'evento nella data giornata in cui ha luogo il cataclisma, ma anche per tutti gli eventi successivi legati al disagio e alle perdite secondarie al cataclisma. Il nostro sistema antistress infatti è un sistema che funziona in maniera ottimale quando siamo esposti a un evento stressante e traumatico per un tempo breve, anche se molto intenso. Quando invece ci troviamo esposti a degli eventi che si ripetono nel tempo, che sono continuativi nel tempo, anche se magari di intensità decrescente o minore, ecco che questo ci mette in difficoltà. E quindi da qui l'importanza di fronteggiare gli eventi traumatici con il possibile disagio che essi possono scatenare attraverso processi e percorsi di cura. Un valore altissimo, vivere meglio, un progetto importante per i cittadini della nostra regione, l'opportunità di un'assistenza psicologica diventa fondamentale. Oggi, come sempre di più, lo potrà essere in futuro, avere l'ausilio di un'opportunità, in questo caso gratuita per chi potrà usufruirne, porta a tutti noi, rappresentanti istituzionali, l'opportunità e il dovere di darne una divulgazione, perché è un beneficio che parte, ovviamente dai territori che hanno subito l'alluvione, non solo, si estende a tutta la nostra regione, quindi una collaborazione che ci sentiamo in dovere di promuovere e di rendere in termini istituzionali a conoscenza di tutti quei cittadini che potranno usufruire di questo beneficio, che non è soltanto ovviamente per l'aspetto di carattere economico, ma diventerà soprattutto per la salute e per il benessere delle persone. Io sono la dottoressa Francesca Guerra, sono medico di medicina generale che lavora a Campi Bisenzio, nonché coordinatrice regionale del progetto Vivere Meglio, qui in Toscana appunto. In qualità appunto di medico di medicina generale a Campi, io quello che ho potuto notare nei miei ambulatori è proprio quanto questi disturbi di cui abbiamo parlato, ansia e depressione, siano molto frequenti nelle donne, nei pazienti che avevano già un'anamnesi patologica positiva per le patologie mentali, ma quanto questo aumento di questi disturbi sia correlato all'entità del danno che i pazienti hanno ricevuto e al supporto sociale che hanno ricevuto. Quindi credo tantissimo nell'aiuto fondamentale che questo progetto dà, proprio come supporto per i cittadini, perché questi disturbi non diventino appunto indelebili, ma come medico ci tengo tantissimo a sottolineare quanto sia importante il fatto che questi psicologi vengono ospitati nei nostri ambulatori. Quindi questo serve a rendere i pazienti consapevoli del fatto che l'accesso alla cura del corpo tramite il medico di medicina generale è allo stesso livello dell'accesso alla cura della mente. Quindi questo è ciò che secondo me è ancora più importante e che sta dietro a questo importante progetto. Il Consiglio regionale della Toscana, con voto unanime di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, ha approvato all'unanimità la relazione sulle attività svolte nel corso del 2023. Apprezzata da tutti i gruppi politici, la campagna di informazione Corecom Tour, che si è svolta in tutto il Correcom Toscana, infatti, ha organizzato una serie di incontri informativi con la collaborazione delle province per spiegare i diritti e prerogative dei cittadini nel variegato mondo delle telecomunicazioni e illustrare quali sono i servizi proprio a favore e per l'aiuto dei cittadini da parte del Correcom. Si tratta di un'agenzia che è poco conosciuta e che invece riveste una funzione importantissima per i cittadini e le cittadine dal punto di vista del loro interesse a quanto si muove nell'ambiente dell'informazione e delle telecomunicazioni in generale, ma anche per quanto riguarda le loro vertenze su queste materie. Il Correcom ha sia attività che gli sono delegate dal governo, sia attività proprie e devo dire che la Commissione ha valutato positivamente tutte le attività del Correcom in questo settore, soprattutto anche la rispondenza delle richieste che la Commissione e il Consiglio avevano inoltrato in precedenza, cioè quella di fare qualcosa per far conoscere meglio questo organismo ai cittadini e alle cittadine che spesso non sanno che cos'è. Si è avviato un percorso che loro chiamano Correcom Tour, cioè di giro per le province toscane, per spiegare le funzioni del Correcom e consegnare questo strumento importante per frequentare i luoghi che oggi sono diventati preponderanti nelle nostre vite, cioè i luoghi dello spazio digitale, dei social e dare più strumenti ai cittadini per stare appunto e adoperare questi strumenti in modo consapevoli. L'attenzione per i cittadini più giovani. Con il patentino digitale, il progetto del patentino digitale e la sua diffusione, il lavoro per mettere in guardia i cittadini più giovani dai pericoli della rete, per consegnare a loro degli strumenti per usare consapevolmente i social, i siti web e senza rischiare di cadere appunto in trappole che a volte lì si incrociano. Anche oggi l'atto che abbiamo votato in Regione Toscana non fa altro che confermare che c'è una volontà di continuare in questo progetto più volte in più forme bocciato della nuova pista di Peretola. E lo fa con degli stratagemmi anche amministrativi che non condividiamo assolutamente. C'è un solo principio da rispettare, quello dell'attenzione all'utilizzo della risorsa suolo che deve prevedere la sicurezza per quelle popolazioni che adesso sono sorvolate anche in orari non adeguati dai voli dell'aeroporto di Peretola, la sicurezza idrogeologica che non può prevedere ulteriori volumi costruiti all'interno di quella piana che pochi mesi fa è andata nuovamente sott'acqua nonostante interventi già fatti e soprattutto non deve prevedere assolutamente quella che è la creazione di un nuovo aeroporto perché di questo si tratta fondamentalmente di cercare di mettere un tassello ulteriore per cercare di portare avanti un progetto che come ho detto più volte è stato bocciato. Ci vuole una messa in sicurezza per le popolazioni soprattutto dal punto di vista ambientale e dell'acustica e quant'altro ma non si può continuare a giocare sulla scacchiere di quello che è una partita importantissima per la piana in questo modo cercando in qualche modo di intaccare anche il progetto del parco stesso che fondamentalmente lo ricordiamo è un modo per tutelare anche l'ambiente e tutte le persone e le popolazioni che li risiedono. Finisce il teatrino tenuto in piedi per cinque anni dove il Partito Democratico parlava di sviluppo dell'aeroporto di Firenze, di volontà di sviluppare l'aeroporto di Firenze, di sinergie con l'aeroporto di Pisa per non perdere un sistema aeroportuale toscano in favore di Bologna e entrate in campagna elettorale probabilmente capiamo le difficoltà della candidata sindaco di avere una coalizione più ampia possibile evidentemente le forze di sinistra presenti nella coalizione della candidata Funaro hanno imposto di rivedere gli accordi perché il Comune di Firenze ha fatto le corse per approvare un atto facendo secondo me anche una scorrettezza, un'inopportunità non una scorrettezza ma un'inopportunità perché a un mese dal voto avrebbero potuto tranquillamente lasciare che fosse il nuovo sindaco a gestire lo sviluppo di quell'area il nuovo sindaco potrebbe essere anche del Partito Democratico ma comunque al nuovo sindaco hanno voluto fare una forzatura per approvarlo subito e oggi la regione toscana mette un grossissimo ostacolo con l'approvazione di questo accordo allo sviluppo dell'aeroporto torna in auge il parco della Piana, torna in auge l'aspetto dei no pista e dispiace dispiace perché per cinque anni ci hanno raccontato che la volontà di sviluppare l'aeroporto era al di là dei schieramenti sia da parte del centro destra che del centro sinistra oggi cadono le maschere e vediamo una sinistra che è contro l'aeroporto di Firenze Questo intervento che è stato il ricepimento da parte del piano strutturale di Firenze c'è un consumo di suolo, un consumo di suolo che non sarà soltanto legato a quello che è il master plan del nuovo aeroporto ma sicuramente l'ampliamento del polo scientifico il passaggio della tramvia, l'aumento anche della scuola dei marescialli ma dulcis in fundo quella che è stata la causa che Unipol ha vinto con il comune di Firenze e in questa trattativa è stato inserito queste metrature, questo lotto all'interno ancora di quest'area per cui si va contro a quello che era un po' la destinazione del parco agricolo della Piana 2000 abitanti, strutture recettive commerciali, turistico per cui assolutamente si va a un consumo ulteriore del suolo e questo potrebbe essere e potrebbe andare in contrasto proprio con il nuovo master plan dell'aeroporto per cui la provocazione che ci sembrava opportuna dover fare in aula era quella di dire che il ricevimento di questo piano nuovo della Piana di Castello scusatemi la ripetizione, sicuramente andrà in contrasto con l'aeroporto per cui significa che sarà una spallata che verrà data finalmente alla risoluzione e alla messa in sicurezza dell'aeroporto di Peretola Termina qua il nostro appuntamento di Arno con il Consiglio regionale della Toscana noi ci fermiamo e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni